e anche se insomma non si tratta strettamente di uomini e donne sei parliamo di belen rodriguez e stefano del martino insomma ci siamo spostati di poco ormai due si sono lasciati da molto tempo ricordiamo che stefano e belen erano regolarmente sposati attualmente belen rodriguez frequenta il campione di motociclismo andrea jannone mentre stefano del martino è stato avvistato svariate volte con una misteriosa brunetta roma ovviamente fra la ex coppia rimane ancora molto in comune e misto proprio riferendo al piccolo figlio santiago e pare proprio che santiago sia proprio l'ultima cosa che li leghi ancora insomma per farvela breve la settimana scorsa hanno firmato la sentenza di divorzio stefano e belen da questa settimana quindi non sono più sposati nemmeno davanti alla legge santiago è stato affidato alla madre belen il padre stefano potrà comunque vederlo nei fine settimana ogni 15 giorni e durante le vacanze per il mantenimento inoltre stefano de martino dovrà versare alla madre belen rodriguez la somma di mille euro al mese il divorzio è stato consensuale i presenti alla sentenza di divorzio hanno parlato di un rapporto molto gelido fra i due che si sono appena scambiati un ciao